Il venditore di palloncini era autorizzato alla vendita dalle 14. A mezzogiorno la richiesta di uno dei genitori gliel'aveva anche detto che non avrebbe potuto, ma la bambina destinataria del palloncino si è messa a piangere così ha ceduto e guarda caso è stato subito multato. Avere il cuore tenero non paga. C'è arrabbiato su questo? Molto perché è straordinario l'accanimento che ha lo Stato nei confronti di chi lavora, paga le tasse, rispetta le regole, si alza al mattino, rischia improprio e là per loro non c'è perdono. Se invece tu sei un venditore abusivo che vende cianfrusaglia, tra l'altro vende dei falsi che fanno male all'economia perché sono evidentemente falsi, c'è tutto un sottobosco di micro criminalità e di criminalità organizzata dietro al falso che sappiamo tutti benissimo. Il falso tra l'altro uccide punti di PIL e di crescita economica, nei confronti loro vuoi perché sono extracomunitari, vuoi perché c'è sempre questo buonismo un po' peloso, per loro lo Stato non li vede. Questo è intollerabile. Quindi anche la Polizia Municipale dovrebbe comportarsi in maniera diversa? La Polizia Municipale che tra l'altro fa un lavoro egregio tra mille difficoltà e questo lo sappiamo tutti e lo riconosciamo, però bisogna decidere politicamente dove andare a colpire. Allora il problema è il venditore di palloncini che vende un palloncino a una bambina che piange o il problema sono questi che vendono cianfrusaglie e dietro nascondono una criminalità organizzata? Grazie. 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 Grazie.